Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. E' la fine di gennaio, sta iniziando febbiario, e quindi non poteva mancare la puntata di cosa esce in fumetteria. Allora, devo dire che gennaio è stato un mese abbastanza scarso dal punto di vista di produzione e di comunque fruizione di fumetti, però ci sono delle chicche che mi sento di consigliarvi, sinceramente. Andiamo per ordine. Allora, questo mese è stato il mese dei due fumetti che rispecchiano in visione diversa la rivoluzione francese. E sta parlando di Gideon the Third. Come già conoscete dei precedenti cosa esce in fumetteria, sapete che questa saga mi sta piacendo un sacco. Questo è il terzo volume di Octo, la saga è di Taro Naguizawa, e invece l'indagine storica e culturale è di Satoshi Yamanaka. Allora, Planet Manga è a uscita bimestrale e costa 4 euro e mezzo. Allora, di che cosa parla esattamente Gideon? Allora, per di che cosa parla in generale Gideon vi rilascio ai precedenti video in cui ci sono i cosa esce in fumetteria. Questo in particolare mette in luce il prequel dello scandalo della collana e di tutti i problemi che hanno portato allo scoppio della rivoluzione francese. Qui ci viene presentata Maria Antonietta che... Allora, posso dirvi, alla fine del secondo volume, Maria Antonietta, nell'opera di Gideon the Third, mi veniva presentata come una stupida pazzesca. Devo ammettere che in questo volume la sto veramente rivalutando. Nel senso, è una donna che sì, è leggermente svampita, ma è molto legata ai propri figli, non esagera con il lusso, non è proprio dipinta come invece veniva dipinta dalla stampa scandalistica del periodo. Nulla da dire che il conte Gideon, scusate, il fratello di Gideon, fratellastro perché in realtà non è che siano realmente fratelli, ne sta combinando di tutti i colori per far partire la scintilla che avrebbe provocato la rivoluzione francese. E mi dà una chiave interpretativa dei fatti completamente diversa, tipo il figlio più piccolo, anzi scusate, il primogenito maschio di Maria Antonietta. Noi sappiamo, dalla storia che ci viene insegnata, che è morto di consunzione, cioè era un bambino di per sé molto deboluccio e è morto. Invece in questi interpretativi fatti vedremo che in realtà è stato assassinato. Mi sento di consigliarlo perché comunque è molto particolare, non è il solito fumetto sulla rivoluzione francese. Altro fumetto che parla sempre della rivoluzione francese, come sapete è stato un fumetto che mi è piaciuto un sacco, ho la prima stagione, questo invece fa parte della seconda stagione, è Innocent Rouge di Sainichi Sakamoto, questo è il volume 7. Siamo a un volume, praticamente il prossimo è l'ottavo, e entreremo in contemporanea col Giappone. Come potete vedere, nella copertina vediamo Maria Giuseppa Samson e Zero, che è la figlia di Maria Giuseppa. Allora, siamo al settimo volume, edizione J-Pop costa 6 euro. Allora, siamo arrivati al punto in cui Luigi Capeto convoca gli stati generali, dopo tantissimo tempo, e ci sono quei famosi 40 giorni che saranno la polveriera che porterà alla rivoluzione francese. La storia viene vista dal punto di vista della famiglia Samson, che era la famiglia che si occupava delle esecuzioni, erano la famiglia dei Boia di Francia, e nel particolare vediamo un'immagine molto rivoluzionaria di Maria Giuseppa, che è la sorella del protagonista, che ha un modo di intendere la vita estremamente libera per affrancarsi totalmente dalla sua situazione di donna. Mi sento di consigliarvelo, perché è sì molto cruento, in questo volume, oltretutto, ci viene presentata la figura di Zero. Zero è la figlia di Maria Giuseppa, e viene chiamata Zero per essere totalmente avulsa dal significato di genere, quindi il fatto che è una bambina, e che non appartiene più alla famiglia Samson, perché Maria Giuseppa, abbracciando l'ideale della libertà della rivoluzione, dei moti rivoluzionari, Giacobini, ha completamente tagliato i ponti con la sua famiglia di origine, che comunque è una famiglia di pseudonobili, se vogliamo dirla tutta. Consigliatissimo anche questo, non vedo l'ora di vedere fino a che punto arriverà la storia, essendo adesso in contemporanea col Giappone. Ci vengono anche presentati le figure di Napoleone, Robespierre e Saint-Just in questo volume. Poi, oltretutto, vi consiglio di prenderli entrambi, perché avete due visioni completamente diverse, perché hai visto da due punti di vista diversi, della rivoluzione francese, perché da questo punto di vista vediamo un'immagine di Luigi Capeto come un uomo molto infantile, ma allo stesso tempo maturo, però comunque ignaro di quello che sta succedendo fino a un certo punto, mentre qui abbiamo la visione di Luigi Capeto come un uomo estremamente conscio della sua figura storica e istituzionale, ma che allo stesso tempo vuole vivere una vita diversa. poi altro fumetto che sta arrivando purtroppo alla sua fine in quanto sono otto volumi totali e siamo già al sesto è World's Mood questo è il sesto volume edizioni J-pop e costa 6,90 euro il fumetto è di Mitsuhisa Kui che ha lavorato insieme agli editori di Berserker e io vedo che è stata estruita da da quello studio lì perché il livello di corrente e di efferatezza del fumetto è abbastanza tangibile il tratto è molto basico rispetto ai precedenti fumetti che vi ho elencato in cui il tratto è molto elaborato è molto barocco da un certo punto di vista invece in World's Mood che è ambientato praticamente parla del conflitto che è avvenuto nei cantoni del passo del San Gottardo in contraposizione alla casata degli Asburgo vediamo che il tratto si fa molto più spigoloso molto più crudo ma nulla toglie il livello di efferatezza siamo arrivati al punto in cui i cantoni uniti decidono di attaccare il passo del San Gottardo e ci riescono e prendono il balivo che si occupava della manutenzione del passo del San Gottardo e vi lascio lontanamente immaginare che fine ha fatto quel balivo in quanto era un uomo estremamente efferato e crudele che ha comunque lasciato un segno molto cruento il sanguinario durante più o meno tutto il volume e vi posso dire che la fine che ha fatto Wolfman se la meritava tutta sono molto curiosa di sapere come si evolverà il volume successivo in quanto vediamo che gli Asburgo rendendosi conto che il passo del San Gottardo non è più sicuro decideranno di scendere e di muovere guerra sono molto curiosa di sapere come andrà a finire so che in teoria a febbraio o a marzo dovrebbe uscire il settimo volume quindi siamo in direttura d'arrivo consigliatissimo anche questo comunque due fumetti invece che hanno lasciato decisamente il segno perché sono due novità che sono uscite nel mese di gennaio sono Gone for the Other Side edizioni J-pop primo volume per il momento di 6 perché la serie è ancora in corso e costa 6,50 euro l'autrice è Suril Harun allora il primo volume ti spiega tutto e niente sappiamo che questo ipotatico mondo fantasy è stato diviso da un muro e da una parte ci sono gli estrani che sono queste creature nere che potete vedere in copertina questo è un estraneo e invece dall'altra parte ci sono tutte le persone normali se tu vieni toccata da un estraneo subisci la maledizione e diventi tu stessa un estraneo praticamente un essere maledetto sappiamo che la maledizione è avvenuta perché due divinità in contraposizione la divinità bianca e la divinità nera di fatto si detestavano la bianca portava la felicità la nera invece portava la miseria la divinità nera è stata maledetta è stata trasformata nel primo estraneo e qualunque cosa tocchi sia maledetta scusate diventa maledetta cosa fa la divinità bianca tira su un muro e gli sbatte tutti quanti dall'altra parte come si articola la storia la storia parla di Shiva che è questa bambina qui se mette a fuoco che vive con questo estraneo che chiama il maestro Shiva è stata abbandonata dall'altra parte del muro è stata trovata dal maestro che si prende cura di lui gli raccomando di non venire mai toccata da nessuno estraneo anche lui non può effettivamente toccarla cosa succede la gente che viene contaminata viene sbattuta dall'altra parte del muro e uccisa cosa veniamo a sapere veniamo a sapere che la nonna ha la famiglia di questa ragazzina l'ha abbandonata perché si credeva fosse maledetta ma vi dirò non si è ancora trasformata in un mostro nero quindi secondo me maledetta non è il maestro la trova e decide di prendersi cura di lei omettendogli però il fatto che è stata abbandonata ora accidentalmente la bambina verrà toccata da un estraneo il fumetto si ferma proprio nel momento in cui l'estraneo gli tocca la guancia quindi non sappiamo effettivamente cosa succederà scopriremo tutto nel prossimo volume vi posso dire che il fumetto è veramente molto basilare a queste trame molto oniriche che mi sono piaciute un sacco ve lo consiglio è un fantasy molto particolare anche io lo terrò d'occhio nelle prossime uscite per sapere più o meno se mi potrà piacere oppure no per il momento solo leggendo il primo volume ve lo consiglio un sacco ora ultimo volume che è uscito in gennaio e che me l'ha fatto patire un sacco perché era da ottobre che lo aspettavo ma è stato sempre comunque rimandato è Sakuran della DINIT casa editrice DINIT l'autrice è Mojoko Anno per chi non la sapesse è la moglie del lidatore di Norganese Gamvalion è pubblicato dalla DINIT nella collana Showcase e costa 18,90 euro è un bel volume comunque allora di che cosa parla? allora siamo nel periodo presumo Edo perché ci sono ancora i samurai e i ronin e parla di una prostituta nel quartiere del piacere da che viene comprata da un uomo che si occupa di passare di villaggio in villaggio per prendere le ragazzine più appetibili e viene portata in questo Okia in cui verrà istruita nei vari gradi di evoluzione fino a diventare un attagno un attagno non è esattamente una geisha ma non è allo stesso tempo neanche una prostituta di bassa lega è una via di mezzo cioè è una donna che vende il suo corpo ma che intrattiene i suoi clienti suonando il coto con la discussione cerimonia del te quindi è una quasi geisha in un certo senso è una via di mezzo tra le due vengono riconosciute e differenziate dalle geisha per un semplice motivo l'obby non viene allacciato davanti e non dietro questo per un fattore di comodità perché potendosi sdacciare i lobby dalla parte davanti poteva essere pronta a intrattenere i clienti per ovviamente fare il mestiere più antico del mondo ora tutta la storia percorre il momento da cui viene comprata da questo ragazzo a questo signore che compra le bambine fino a diventare una delle età più affermate della sua casa percorrendo tutto un sentiero che sa molto di cultura nipponica riguardante il fatto di non poter resistere al di fuori delle mura del piacere del quartiere a luci rosse di quel periodo quindi il fatto che lei nega l'amore ma allo stesso tempo ne ha tratta e che comunque nessun uomo si può innamorare di un atagno ora questo è quello che è uscito in fumetteria nel mese di gennaio in realtà è uscito molto di più però io ho deciso di comprare solo questi titoli e mi sento anche caldamente di consigliarveli tutti perché sono veramente validi spero che la rubrica ti sia piaciuta spero che ti abbia intrattenuto qui sotto ti lascio il mio contatto Instagram dove puoi vedere la mia quotidianità ti invito a mettere mi piace al canale scusate al video se ti è piaciuto e iscriverti al canale se trovi divertente comunque i contenuti che produco sappi che se ti iscrivi al canale e metti mi piace al video il canale cresce e io cresco insieme a lui detto questo il video finisce qui e ciao a tutti